Noi pensiamo che il valore della vita e l'ambiente debbano conciliarsi assolutamente con le attività di estrazione, che devono essere regolate e anche contingentate. Non possiamo più tollerare che ci sia un livello così alto di incidenti e di mortalità nelle cave, per questo interveniamo con un progetto speciale che prevede l'assunzione di giovani per aumentare i controlli e anche con un accordo con la Procura, perché la Procura possa lavorare con il personale amministrativo che noi invieremo sotto gli aspetti repressivi e che quindi dare sviluppo alle denunce e agli interventi che i controlli provocheranno. Solo la sicurezza però non basta, vogliamo intervenire anche sull'ambiente, quindi rafforzeremo i controlli che farà l'ARPAT con l'impiego di altro personale, che ovviamente si ripagherà purtroppo con le multe che verranno rilevate. E poi pensiamo che occorre un intervento di regolazione di quanto materiale viene estratto, quindi valutare e misurare in maniera puntuale, lo faremo anche con strumenti tecnologici moderni, quanto marmo viene estratto, capire se è possibile fare un piano che ne regoli l'estrazione per evitare che ci sia un consumo della montagna, un impatto ambientale e paesaggistico sulla montagna che non è sostenibile. È una svolta nel governo di tutte queste vicende che è resa possibile sia dai progetti speciali che prima dicevo, sia dalle nuove leggi che abbiamo fatto, la legge 35 sulle cave, e sia anche dalla nuova legge sul paesaggio che abbiamo di recente approvato insieme al Ministero dei Beni Culturali. È una grossa scommessa, io sono convinto però che nell'arco di un paio di anni le cose possono cambiare. Mi rivolgo alle forze sociali, ai sindacati che ci sollecitano in questa direzione, ma mi rivolgo anche a quella parte dell'imprenditoria più sensibile che ha capito che se non riusciamo a produrre insieme un cambiamento il rischio davvero è che un giorno questa attività così importante per questa zona, ma così anche importante dal punto di vista della storia, dal punto di vista anche di ciò che di unico al mondo riesce a produrre, rischia di diventare incompatibile perché non è accettabile sotto il profilo dell'impatto sociale, sotto il profilo dell'impatto ambientale e paesaggistico. L'equilibrio deve essere trovato e io penso che possiamo riuscirci. Anche qui al Senato ho detto in modo esplicito queste cose, mi pare che la maggior parte della Commissione abbia apprezzato il lavoro che stiamo facendo, dato la disponibilità anche a rendicontare poi gli esiti di questo lavoro.